Allora, questa in controluce è la zona hangar, questa sarà tutta la zona hangar, compreso l'hangar già esistente qua davanti, di fianco alla clubhouse. Qua la zona prendisola, questo è l'epron, quindi tutto il parcheggio per gli aeroplani, già che ce n'è uno si capisce bene dove sono. Qua, nella parte in fondo, ci saranno gli alianti, quell'albero, ci saranno tutti gli alianti, in quella struttura in legno di davanti faremo un primo accoglimento in attesa della clubhouse e poi la pista è enorme, che sono 920 metri di pista, con un orientamento verso nord per 0,2 e un orientamento a sud per l'inizio fino alla in fondo. A metà abbiamo un altro vicino che ha anche lui, l'hangar, che è in quella bianca là davanti, ma non è una gestione privata, ma non è una complice, e poi basta. Allora, sul capitolo è questa. Davanti a noi, dritto di là, c'è un drive di golf e il parcheggio per tutte le strutture recettive che ci sono. Tutto lì. Grazie, arrivederci. Grazie.